Stefano Simondo, nato in Liguria ma di origini irpine, racconta la sua esperienza artistica ai telespettatori di Irpini a Sannio TV. Stefano, lei dove è nato? Io sono nato a Imperia, nel ponente Ligure, il 12 gennaio 1964. Come mai è ritornato nella sua terra di origine? Beh, io ho iniziato a lavorare a Milano, al nord, da qualche anno vivo a Roma e quindi sono molto più vicino e mi ha fatto piacere ritornare nella terra di origini materne, mi piace questa gente, questo modo di fare e quando posso vengo via da Roma e sono da queste parti. Lei è un attore di fiction e spot pubblicitari, ci può raccontare la sua esperienza artistica? Sì, io ho cominciato nella pubblicità a Milano, lavorando in alcuni spot anche per il mercato estero, quindi che non si sono visti in Italia, perché Milano comunque è la capitale della pubblicità in Italia e ho lavorato anche in un paio di fiction, questo quando vivevo al nord, ad esempio Love Bugs che andò in onda su Italia 1 e poi ho deciso di trasferirmi a Roma e a Roma ho lavorato in altre fiction, tra cui proprio di recente è uscito E-Band su Disney Channel e su Rai Gulp. Ha preso parte anche da alcune trasmissioni televisive, ci può dire quali? Sì, ho fatto Anthony Bogart una mattina, ho fatto una scenetta divertente con Sabrina Impacciatore, molto simpatica tra l'altro, lei dal vivo, a Veri Vittoria su MTV, ho fatto Celentano nella sigla del Dopo Festival, insieme a Elio e le storie tese, Celentano a quelli che è il calcio condotto da Simona Ventura, insomma ho fatto parecchie partecipazioni che si possono chiamare quasi sketch scenette all'interno di programmi, queste cose qua. Bene, nel corso della sua carriera ha anche lavorato alla realizzazione dei videoclip, quali e di cosa si tratta? Sì, ho lavorato in un videoclip, premesso che i videoclip sono cose molto divertenti, perché sono set divertenti, c'è musica, c'è una bella atmosfera, i registi forse sono più distesi, eppure è un lavoro molto difficile il videoclip, perché lei deve far combaciare i tempi della musica e dare un senso a quello che si sta facendo, rendere divertente la cosa. I videoclip sono del cantante Bugo, che lavoro fai, dove facevo l'arbitro, e della cantante Lori, ci sei tu dove ero il papà, che ripiombo a casa e trovavo tutto un po' in subbuglio. Questo comunque in chiave è molto divertente, comunque vengo da base di comico, anche se poi ho recitato alcune cose che erano molto serie, si fa un po' di tutto, diciamo. Bene, per quanto riguarda le fiction, prevede anche i suoi nuovi impegni? Credo di sì, diciamo, incrociamo le dita, si dice così, la scaramanzia, chi è più esperto di me, si faccia avanti e mi spieghi cosa si fa per non pensare, o per pensare, non pensare, non so. E comunque qualcosa anche di teatrale, ritornare al teatro, qualcosa di commedia, comunque teatro o commedia, divertente, leggero. Quali sono i progetti futuri di Stefano Simondo? Che bella domanda, direbbe qualcuno facendo così. Progetti, probabilmente il lavoro di una fiction, però non voglio sbilanciarmi perché le cose non vanno mai dette prima, è un impegno teatrale. Queste sono le due cose che sto seguendo e speriamo bene. Noi le facciamo il nostro in bocca al lupo, così come sicuramente faranno anche i telespettatori di Irpinia Sannio TV. Io ringrazio i telespettatori di Irpinia Sannio TV, li ringrazio di cuore, gli auguro tante belle cose, veramente.